E ricordatevi signori, ricordatevi che avete preso 5 gol dal sassuolo e voglio aprire così questo video Lo voglio aprire così perché oggi è facile Ah, lo scontro Champions, l'Atalanta, non si prende gol da 4 partite Non conta un cazzo Voi avete perso 5 o 2 gol dal sassuolo e io sono ancora lì col punto E io l'ho detto E l'ho detto che io in ogni video da qui a fine stagione vi ricorderò che voi avete perso 5 a 2 gol dal sassuolo Forse, forse il prossimo campionato smetterò di dire questa cosa, forse Ma adesso io vi ricordo che avete preso 5 gol dal sassuolo Passo avanti sul fronte che da fare un gol a partita siamo passati a farne due Che era proprio dalla partita con sassuolo che questo non succedeva Ma è di nulla Però ragazzi rimane il fatto che tu oggi, come tutte le partite, hai tirato 13 volte e hai fatto due gol Oggi siamo arrivati a un punto che mi stavate snervando da quanti gol stavate sbagliando Perché posso capire che c'è l'Atalanta e posso capire che c'è la dose di sfortuna Però ci sono stati 3-4 gol mangiati stasera Che sareste da prendere, portare nello spogliatoio così per i capelli e tirarvi le orecchie Perché questo c'è da farvi molte volte Un'occasione 4 contro 2 manco al tiro siamo arrivati Quella palla messa e mezzo da Tonali per le orecchie poteva tirar Tonali Quel gol man sbagliato da Messiasa un mezzo da una porta che poteva tranquillamente tirar dentro Sono queste le cose che mi fanno incazzare perché tu vedi prestazioni come questa E dici che le potevi anche vincere 3-4-0 le partite stasera Perché tu stasera mi rendi Contento Se tu queste partite le vinci 3-4-0 Allora lì sì che ti posso dire Vabbè Vabbè Ma altrimenti Togliete tutto Togliete tutto di mezzo Perché ancora una volta Tiri su tiri su tiri E fai uno due gol Uno due gol Uno due gol Ti rompi il cazzo anche di guardare le partite Perché ti rompi il cazzo Andando le partite per se stesso L'unico che si merita Una mia esultanza nel caso facesse gol È Krunic Perché lui veramente si merita proprio che Che me lo metta a mano Guardate che me lo metta a mano Krunic Perché si merita quello È veramente sontuoso Copriano le zone del campo e si fa Soprattutto si fa un culo così Krunic Si fa un culo così Perché se nel Milan ci fossero 11 Krunic Non perdevi 5-2 col Sassuolo Non perdevi 5-2 col Sassuolo E a differenza di qualcuno Che vuole 9 milioni l'anno Che stasera ha tolto l'assist Che grande sforzo Ha fatto vomitare Io vi ricordo che il signore Che vuole 9 milioni Ha fatto gol a Salerno Ha fatto gol a Lecce E poi ha fatto vomitare 9 milioni Non aggancia una palla Non la passa Non tira Si fa anticipare E vuole 9 milioni Io posso capire Che magari Un po' più accentrato E anche un po' più predo Di difensori Io lo posso capire Che magari non è proprio il suolo Perché lì Cacato sulla sinistra Ne ne mettevano uno Massimo due addosso Faceva quello che gli pare stasera E anche nel partito prima Può avere qualche più difficoltà Con un ruolo più accentrato Quindi lo posso capire Ma non capisco Perché tu faccia così cacare E vuoi 9 milioni Buono rientro di Mignan Anche se Guardate Guardate caso Dopo le 584 Minchiate di Tatarusano Mignan rientra Quando Tatarusano Aveva cominciato a giocare bene E stasera con Tatarusano in porta Aversi vinto 2-0 Lo stesso Perché l'Atalanta Non ha tirato Strano Vabbè Mignan Altre 10 partite In effetti Per far vedere il suo valore Speriamo che succeda Ibra Rientra Fa quel che può Tarnandez Fa un gol Della Madonna Perché effettivamente Tarnandez Fa un gol Della Madonna Da quando il Minan Ha ricominciato Cramurosamente a vincere Tarnandez Gli si può dire più poco E Per il resto Tornano inguardabile Tornalmente Ha fatto una cagata Dietro l'altra Buono Messias Che segna per due partite di fila Buono Messias E che ragazzi I giocatori in queste partite I giocatorini Come Messias E Krunic Stranamente Riescono A mettersi in mostra E secondo me Il gol di Messias Dopo che se ne ha mangiato uno Che l'avrei preso a schiaffi È totalmente meritato Buona la fase difensiva Buono Chou Buono Tomori Buono anche Kalulu Sebbene Atalanta Sia stata rimbalzata Diverse volte E lo so Vorrei rigiocare Tutte le partite Del mese di gennaio In questa condizione Vorrei Magari Alcune le perdiamo Ma Le perdiamo meno amaramente Di come le abbiamo perse E però ragazzi Io ve l'ho detto Già Contro il Monza E a me dispiace Dirvelo perché Poi io passo Per quello occasionale Passo per quello Che mi va Ma bene niente Però Da una squadra Che ha questo sul petto E non importa Come questo sul petto Sia arrivato Se si ha dei merdi Di qualcun altro Se si ha dei merdi Tu hai Non importa Come questo sia arrivato Ma tu hai questo sul petto Non è detto Che lo debba rivincere Cosa che È impossibile Però Difendilo con onore Non ti ho detto Che devi avere 10 punti in più Del Napoli Difendilo con onore Quello ti ho chiesto Difenderlo con onore Almeno Fai vedere Che ci tieni Fai vedere Che ci tieni E questi 5 gol Dal Sassuolo Non mi andranno Mai giù Almeno fino all'inizio Del prossimo campionato Perché non mi andranno Mai giù Io l'ultima giornata Di campionato Che sarà Milan-Verona Credo Io sarò qui A ricordarvi I 5 gol Pensi Dal Sassuolo E Milan La parola L'ha anche giocata bene Perché questa è stata Una partita da Milan Alla fine È stata una partita Da Milan Da Milan Che eravamo abituati A vedere Solo che Ripeto Il passato recente Non aiuta Ad avere una visione completa Di quello che Di quello che vorrei dire Di quello Di cui vorremmo parlare Non aiuta ad avere Una visione completa Perché il passato recente È stato molto Tosto Molto Umiliante E difficile Da accettare Quindi la prestazione Nel complessivo Stasera è stata buona È stato buono i cambi È stata buona la lettura Fase difensiva Fase offensiva Un po' meno Però Nonostante Manchi Benazer Perché io vorrei Rijocare Anche col Monza Che si è vinto Vorrei giocarla Con Benazer Non si può dire niente Anche se Davanti abbiamo Il solito Problema Da Adria è tutto Domani mattina Uscirà come sempre Live Reaction Un bacione Ci vediamo Fatemi bene domani Anche GTA Alle ore 12 Da Adria è tutto Un bacione